Buon Natale a tutti e a tutta la vostra famiglia. E' proprio tu, tu che stai guardando questo video. Spero che passerai un buon Natale in famiglia e in felicità. Spero che ti divertirai, passerai dei momenti meravigliosi. E spero che con questo video ti divertirai e passerai un piccolo momento della tua vita in compagnia di Dolce Rit. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Le Creazioni di Riri. Questo è il quarto video tag che faccio e si chiama Questo o Quello. Quindi ci sono sempre due scelte e bisogna scegliere questo o l'altro. Le ho tutte le domande sul telefono perché appunto non me le sono segnate come i video precedenti per mancanza di tempo. Iniziamo subito. Queste sono delle domande riferite al make-up. Allora le mettiamo un attimo qui. Allora blush o bronzer? Blush. Mi piace sulle guance, mi dà questo segno abbastanza carino. E il bronzer non mi serve più di tanto, ho la pelle abbastanza olivastra. Lip gloss o rossetto? Rossetto tutta la vita mi piace tantissimo. Mi rende molto più femminile, ovviamente con un trucco più leggero, eccetera. Eyeliner o mascara mascara perché mi allarga molto di più lo sguardo e quindi mi rende gli occhi molto più grandi. Fondotinta correttore? Fondotinta perché io non ho molti impurità, non impurità più brufoletti, non lo so, macchiette, eccetera. Quindi un fondotinta che ho omogenea, non so se si dice omogenea, boh vabbè, ci sanno capite? Che comunque uniforma, forse si dice uniformare, uniforma la pelle e basta. Ombretti neutri e colorati? Neutri tutti i giorni, colorati durante magari il fine settimana, però più neutri. Ombretti pressati o in polvere? Pressati. Preferisco tipo palette più semplice e veloce. Spugnette o pennelli? Pennelli, le spugnette non mi piacciono più di tanto. Preferisco i pennelli che posso fare tutto con i pennelli. Passiamo alle unghie. Unghie, French o tinta unita? French, mi piace molto di più. Mi allarga, diciamo, molto di più, mi allunga molto di più l'unghia, scusate. E mi piace di più. Lunghe o corte? Mi piacerebbero lunghe ma ce le ho corte, cortissime, forse mi d'aria. Acrilico, naturali? Mi piacerebbero anche quelli naturali ma spesso ricorro appunto all'acrilico, a diciamo il gel, le unghie tip finte perché appunto non mi piace. Tinte scure o colori accesi? Colori accesi e tinte scure preferisco metterle. Uno, quando ho le unghie lunghe, scusate, sono un po' scusa. Quando ho le unghie lunghe? Due, più che altro in inverno. Matte o shimmer? Preferisco matte ma il shimmer in realtà mi piace di più. Corpo. Profumo o essenza? Direi profumo perché, boh, secondo me è più buono. Lozione o burrocorpo? Penso burrocorpo, mi piace di più, mi rende molto più morbida la pelle. Sapone o bagno schiuma? Bagno schiuma, sempre, sempre. Adoro bagno schiuma. Lush o altre compagnie? Lush. Fashion, scusate, ok. Jeans o tuta? Jeans. Vestito o gonna? Tra le due io metto più spesso la gonna ma mi piacciono i più vestiti. Fantasia, striscia o plaid? Fantasia, tantissimo. Eh, quella a striscia in tempo, scusate. Sandali o infradito? L'infradito, secondo me sono molti più femminili. Quelle con magari un pochino di tacco. Anche la sera magari in estate mi piace intanto. Ehm, sciarpo, cappello. Ehm, io preferisco il cappello. Ne avevo uno qualche anno fa. Un cappello tipo da, ehm, 007 per intenderci. Mi piaceva veramente tantissimo. Quello ho perso. Non so. Se ci penso adesso mi arrabbio ancora. Dico, ma dove cavolo l'ho messo? Ero vabbè. Orecchini piccoli e pendenti, allora. Ehm, secondo me piccoli da tutti i giorni. Da mettere soltanto con un punto luce. Molto, niente di che. Pendenti sabato sera o la domenica. E le adoro tantissimo. Collane o bracciali. Allora, io uso sempre solo questa collana. E sempre solo, oh, di nuovo. Sempre solo questi due bracciali. Sempre. Quindi non so dire. Preferisco, se proprio devo, preferisco i braccialetti. Che le collane. Però tengo sempre solo quasi solitamente. Tacchio scarpe basse. Questa è la terza volta che lo dico. Adoro i tacchi, ma per cause di forze maggiori devo usare le scarpe basse. Però appena posso metto i tacchi, ovviamente. Stivali da cowboy? O da cavallerizia? Da cowboy mi piacciono di più. Ehm, marroni, neri, mi piacciono di più. Secondo me sono più carini. Felpa o giacchetto? Mh, felpa. Preferisco di più. Magari meno femminile, però la preferisco perché mi dà appunto, emana più calore secondo me. C'è proprio mi scalda di più. Mh, persca o H&M? H&M mi piace di più. Io non compro da nessuna delle due. Mh, ho comprato, ma c'è niente di che. Però preferisco H&M. Mh, capelli. Allora, oh, uguagliate, scusate. Ricci o lisci? Allora, su di me, mossi. Cioè, più ricci che lisci. Perché, secondo me, col video che ho, ricci, non lo so, rendono di più, secondo me. Però anche lisci mi piacciono abbastanza. Cioè, mi piacciono. Io poi li metto, dipende dalle volte se ho voglia di piastrarli o no, eccetera. Scusate. Raccolti a chignon o a coda di cavallo? Io assolutamente uso a coda di cavallo. Quando fa caldo mi metto, appunto, tipo chignon, ma proprio il funciu, il solito, quello che metto molto alla veloce. Forcine o mollettine? Io uso solo forcine quando le uso. Come vedete qua e qua io non le uso spesso. Perché non mi viene tanto e poi più che altro le perdo. Rischio sempre di non sapere mai dove sono, eccetera. Gel o spray fissante? Allora, io uso sempre, 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 quando, appunto, mi serve. Mousse per fare i capelli un pochino più ricci e definiti. O lacca per, appunto, fissarli. Mai, mai il gel, mire, non mi piace anche perché ho capelli lunghi. Non riesco neanche a trovare bene come utilizzarlo. Lunghi o corti lunghi? Tutta la vita, tutta, tutta la vita. Frangetta laterale o unita? Allora, se proprio devo fare la francia la faccio laterale, altrimenti io tendo a non farla proprio a tenere i capelli indietro come adesso. Con un codino così alla cavolo, con due mollette, ma non mi piace tenere i capelli avanti. Quando faccio la riga la faccio ad esempio laterale. Tirati su o sciolti? Tirati su sono più comodi, spesso, anzi, quasi sempre li uso tirati su, ma quando posso, quando magari sono tranquillo, li uso sciolti che mi piacciono di più. Domande random? Allora, vediamo un po'. Tempesta o freddo intenso? Allora, preferisco la tempesta, così dopo un po' passo. Scusate, non leggo un cavolo, perché, cioè, vi rendete conto, è giallo. Oh, qua si vede anche meglio. Estate o inverno? Estate, l'ho già detto, se devo scelere tra i due. A me piacciono in realtà tutte e due, però l'inverno mi piace di più per stare appunto con i miei cari, Natale, eccetera. Estate, mare, acqua, piscina, eccetera. Eh, boh, mi piacciono comunque tutte e due. Primavera, autunno, odio tutte e due. Non è che proprio odio, se devo scegliere è primavera che dove nascono i fiori, ma non mi piacciono, me ne rendono un pochino inquieta. Cioccolato, vaniglia, cioccolato, fondentissimissimo. Caffè, ok, se devo scegliere, durante il giorno caffè, la sera tè. Dolce o salato? Dipende, più dolce che salato. Amore o soldi? Amore, tantissimo. Cioè, io preferisco mille volte l'amore ai soldi, anche se ovviamente i soldi servono. Macchina o scooter? Macchina. Mi sento più sicura, mi piace di più. E, appunto, odiando da poco, comunque, mi sento a mio agio con la mia macchina. Vino o birra? Io non bevo. Non mi piace bere in generale, ma, cioè, se devo proprio scegliere, diciamo, il vino. Perché magari l'ho già bevuto un pochino da piccolo, eccetera, però non mi piace su di tanto. Le domande sono finite. Io con questo vi saluto. Un bacione. E al prossimo video. Ciao!